La Regione Puglia facilita l'accesso al credito per le piccole e medie imprese con contributi a fondo perduto per stimolare gli investimenti. Il servizio. Aiutare le piccole e medie imprese pugliesi ad accedere al credito utile per rinnovare o innovare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto la propria attività. È l'obiettivo della nuova versione delle misure regionali relative al commercio e al turismo. Il contributo a fondo perduto passa dal 20 al 35 per cento per le piccole imprese e al 30 per le medie imprese per finanziamenti fino a 2 milioni di euro. Puglia da parte del conto interesse quindi in questo momento investire è vantaggioso. La prima novità si rivolge alle imprese micro, piccole e medie che operano principalmente nei settori del commercio, dell'artigianato e del manifatturiero che potranno soffrire di un contributo aggiuntivo a fondo perduto del 30 per cento dell'investimento fatto per un importo massimo di 1,2 milioni di euro. Lo stesso contributo a fondo perduto sale al 35 per cento dell'investimento sostenuto e all'importo massimo di 700 mila euro per le imprese. Per quelle che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo è di 1,3 milioni di euro, specie per le aziende di media dimensione, e di 800 mila euro per le piccole. Per le piccole e medie imprese che operano nel settore turistico alberghiero, il contributo aggiuntivo a fondo perduto viene calcolato sull'intero investimento. Potranno accedere alle agevolazioni anche le farmacie e le imprese di commercio al dettaglio di carburante, purché si tratti di combustibile alternativo. Mi aspetto una grande scossa, in realtà già tantissimi imprenditori sono mossi, sono stato contatto da tantissime persone, gli imprenditori erano contentissimi di questa iniziativa perché in un momento in cui si riparte, si riprende, la regione vuole scommetterci di più, vuole essere al fianco delle imprese e che decidono di passare alla parte di investimento e di innovazione.